Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come vedete ho detto un nuovo unboxing perché mi è arrivato da poco l'album di debutto degli Icon, Welcome Back. Quanto ho desiderato questo album, alla fine l'ho preso. La versione verde, perché sì, è tanta roba la versione verde. E basta, apriamolo subito perché è tipo più di un anno che aspetto questa cosa e devo vederla assolutamente. Questa cosa è bellissima. Bene, vediamo un po'. Il mondo. Questo è il CD, ovviamente. Che io amo questo CD, cioè ci sono delle canzoni meravigliose. Penso di preferirlo rispetto all'ultimo. Questo qua mi piace molto di più. Ha detto questo? Guardiamo queste cose. Beh, questa cosa. Cos'è sta cosa? Oddio. Sì, grazie. È passato un po' di tempo, ma va bene. Va bene, questa cosa. Oddio, sono andato. In caso dove metto questa cosa qui? Va bene. Oh, bene. Rullo di tamburi, gente. Ok. Momento di ansia. Oddio, sono andato. No, ti prego. Aspetta, c'è altro. Oddio, ma c'è una card. Oddio, sono andato. Ho tutto nello Ionni. No, non ci posso. No, 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 gente. È tipo il mio baglio, ma se va bene. Ok, va bene. Oddio. Un murino bellissimo. Ma quanto è bello. Sento del caldo. No, va bene. È bellissimo. Ma si può scrivere qua dietro? Non lo so. È stupendo. Aiuto. È bello col Bobby anche. No, ma è bellissimo. Ah, grazie. Che cosa bellissima. Ma ci sono anche gli adesivi? Eh. Non vorrei dire. Specificato anche. Adoro. Dove li metto questi adesivi? Cioè, la mania degli adesivi. Grazie per queste caldo bellissime. Mi sento completa. Va bene. Come si ha? Ah, così. Oddio, le caldo giganti. Non mi ricordavo più. Madonna. Non sono fatta per questa cosa. Questa cosa. Welcome back. Certo, come no. Come sta striscia dietro? Ok. È airplane questa cosa qui, maledetta. Oddio, che meraviglia. Oddio il mio. No, gente. No. Posso non esprimermi? Oddio. Ma quanto è meraviglia. Mamma mia, sono bellissimi in questo video. Non potete capire. Sono alla perfezione. Oh, santa pace. Mamma, che bello. Oddio. Oddio. Cioè, con questo taglio mi fa morire da ridere, scusate. Oddio, ma è un patatino piccolissimo. Ok. Momente di disagio. Comple... Come l'ho detto, momento di disagio completo. Che schifo, rivitta. Queste sono le card serie. Motton. Gente. Oddio, le mani che tremano. Questa è sta cosa bellissima. Bobbino. Zio Bobby. Mamma. Oh, tutto. Che schifo. Questa foto fa proprio schifo. Deve uscire la parola. Bene. È l'ora del book. Tutte le foto. Se ci vedo tutto il riflesso, tipo, va bene. Ok, vediamo. Ah, non sono pronta per questa cosa bellissima. Bianco. Bianco. Oddio mio. Madonna. L'interno non prospetta nulla di buono. Oh, porca miseria. Mamma mia, ma gente, che cos'è sta cosa? È questa cosa? Madonna. Che... Cesso. Oh, porca miseria. Ah, che dolore immenso dentro. Non potete capire il mio dolore in questo momento. Mamma mia. Che belle. Ma cos'è sta cosa? Cioè, non si può, ho capito. Oh. Schifo di vita. Oh mio Dio. Voglio questo poster in gigante, grazie. Oddio, sotto. Oddio, sotto. Ma santa cosa? Sento... Delle... Non so, dei voti d'aria. Va bene. Mamma, sei bellissimo. Sei proprio bellissimo. Non c'è niente da dire. Aiuto. Madonna. Cos'è in... Invece da molto, tipo. Sì, va bene. Va bene, va bene. Ma cosa? Zio Bobby, deve starsene calmo. Oddio. No, senti, basta. Non lo voglio vedere con il brutto di pelle, grazie. È una cosa che non posso accettare. Mamma mia. Questa mi piace assai. Poi il profilo. Dai adesso il profilo. Bello. Total black, proprio. Adoro. Ecco, perfetto. Come hanno detto, total black. Ora facciamo i colori. Che schifo di cosa è. Ok. Va bene. Schifo. Ma cosa? Cioè. Oh mio Dio. Eh, hai i slacci, i slacci slacciati. I slacci slacciati. Mamma mia. È bellissimo. Cioè, scusate, ma è bellissimo. Anche con la pecora addosso, è bellissimo. Cos'è i guanti? Caldo, allucinante. Porca maiana. Non mi ricordavo questa cosa, bellissima, con questi capelli. Dove, quando, perché airplane, grazie. Però l'avevo messo vicino airplane. Oddio mio. Perché sono tutti spettinati? Ma cosa? Ma cosa? Me ne vado. Perché ho fatto questo album schifoso? Oh, santa la faccia. Questa foto, cioè, basta. Me le supera tutte. Wow. Sì. Di un guant spettinato come il male. Ok. Ma porca vacca. Ma io santa. Ma perché devo mettere la pecora addosso? Non capisco. Sì, ma stai bello, lo stai. Ho sentito un momento di salti mortali nel mio cuoricino. Ma va bene? Quanto sei bello. Aiuto. Ok. Madonna. Mamma mia che gambe secche. Cosa vacca? La mia gola secca. Cioè, ma come si fa? Non si può, capito? Ma io adoro quei capelli. Ma, ma scusate, i miei capelli rossi. Non mi ricordavo neanche avesse i capelli rossi qua. Ok. Quanta meraviglia. No, no, è finito. Ma dai, ho aspettato un anno per sta cosa. Basta. Bene. Anche questo unboxing è finito. Che bello. Non mi ha già potuto capire. Non pensavo. Ok. E basta. È una cosa meravigliosa questo album. Cioè, vabbè. Fatemi sapere qui sotto se avete questa versione o la versione rossa. Che anche quella ha tanta roba. Ok. E fatemi sapere se seguite gli icon. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.